la vittoria a casa ma devo dire che sicuramente vincere è bello, vincere a casa è ancora più bello di fronte a tutti i miei amici, i miei familiari, il mio pubblico è stato un match tosto, devo dire la verità, molto tosto però alla fine abbiamo portato a casa i risultati e questo è quello che conta ragazzi Assolutamente, un match così ti ha dato veramente l'opportunità di far vedere a chi ancora magari per chissà quale motivo non lo considerava, quanto sei completo sia per quanto riguarda la lotta a terra che per quanto riguarda la lotta in piedi e dammi sto 5 No, ha detto una cosa giusta Che cosa ti è piaciuto da parte tua e che cosa magari ti recrimineresti dopo comunque questa vittoria meritatissima? Allora hai detto una cosa fondamentale penso perché un po' da tutte le parti ho questa sensazione anche questa volta, non so se mi mettono sempre avversari forti o comunque che sulla carta sono superiori rispetto a me David Gallo non arriva da 5 vittorie, ho messo capo Charlie Liri, il calcio girato al Rossi Houston eccetera 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 quindi sulla carta sicuramente ero lo sfavorito non so se mi mettono davanti a questi match per cacciarmi o perché credono in me e vogliono semplicemente farmi crescere sicuramente per me è una grande soddisfazione portare a casa il risultato in questa maniera il match è stato, è inutile che dico cavolate, è stato tosto perché David Gallo è un avversario tosto cioè non è che ha vinto 5 match gli ultimi così a caso ha colpi forti, anche se magari non sono puliti e precisi però ha comunque colpi forti, ha una grande base di lotta le proiezioni sono ottime è andato sicuramente tutto come avevo già pianificato anche se qualche takedown da Giuda è riuscito a farmi lo stesso anche se sapevo che in realtà lo stava facendo perché ne ho difesi tanti in quel modo quella sorta di riuscimata interno con la gamba con la stanchezza e perdita un po' di focus ogni tanto è riuscito a farmeli però poi devo dire che come già avevamo studiato sono riuscito a recuperare alla grande quindi ecco magari ho perso un po' la concentrazione ogni tanto anche se sapevo già quello che stava per fare però era semplicemente per prendere fiato e mi recriminerei che no, più che altro faccio i complimenti a lui perché è stato, ha avuto delle difese da takedown avendo il baricento basso, ex judoka quindi non era facile proiettarlo, devo essere sincero quindi mi recriminerei un po' il fatto che potevo provare qualche takedown più ma ho preferito tenere un po' più di fiato per la fine perché l'avevo studiato e so benissimo che inizia un po' slow e poi va a salire nel secondo e terzo round come ci ha dimostrato infatti il secondo round credo che l'abbia vinto lui terzo round sapevo che sarebbe venuto dentro la gabbia ancora con più energia quindi mi sono tenuto un po' per contrastarlo nel terzo round Non ti chiedo chi ma ti chiedo dove Bella tra Dublino a febbraio quello sarebbe il tuo obiettivo adesso? Sicuramente sì, voglio ricombattere il prima possibile non voglio fare periodi di stop e di fermo troppo lunghi veramente mi uccidono voglio combattere il più possibile penso che sono nel picco della mia forma fisica, mentale, tecnica quindi sicuramente voglio godermi un po' adesso la famiglia il Natale e tornare in Irlanda e essere pronto per ricombattere di fronte al mio pubblico di Dublino Come festeggiai questa vittoria adesso? Ma niente di speciale in realtà non vedo l'ora di salire e andare da mia figlia che non vedo da due mesi l'ho vista solo ieri mi ha dato la carica per oggi l'ho vista solo ieri poi è stata una tragedia lasciarla piangeva perché ovviamente non mi vedo da due mesi però poi la sera lei è andata a dormire in un altro albergo perché quello era troppo costoso parliamo così chiaro mi dovete pagare di più ragazzi quindi stasera mi goderò la famiglia mia moglie, mia figlia e la mia famiglia Daniele grazie mille per la disponibilità ancora una volta complimenti per questa grande vittoria ragazzi Daniele Scatizzi a presto Grazie mille per la visione Grazie mille per la visione Grazie mille per la visione